Quando hai materializzato all'interno del software Zephyr Structure From Motion la posizione dei punti di appoggio, dei Ground Control Points in ogni immagine, allora adesso si tratta di inserire le coordinate di questi punti. Dire al software guarda che io conosco le coordinate precise perché le ho prese in campo, qualcuno le ha prese in campo con me con degli strumenti topografici e ti dico che questi punti li devi utilizzare come se fossero delle puntine per bloccare in quei punti il modello tridimensionale ma al stesso tempo sistemare un po' quanto tutto il resto per aggiustarlo sulla base delle coordinate di questi punti. Ci sono due modi per farlo, puoi scrivere proprio editando per ciascun punto le coordinate ma questo rischia di portarti degli errori specialmente se i punti sono tanti e se le coordinate sono dei numeri grandi come quello che succede per le coordinate dei sistemi di riferimento proiettati oppure puoi prepararti un file di testo con il nome del punto, le coordinate XYZ e importarlo dentro Zephyr. Il modo più veloce è quello che ha il minor rischio in termini di errori di battitura quando inserisci le coordinate dei punti. Questa è la nuvola di punti sparsa dove ho portato dentro, non dove ho portato dentro, dove ho, l'ho fatto nelle immagini, ho materializzato le posizioni dei punti all'interno di ciascuna immagine, ho posizione di nove punti di cui ho un file di testo, questi punti li ho nominati a mano a mano che li editavo, che li sistemavo con il nome che poi mi corrisponde al file di testo che sto elaborando e il file di testo è questo qui, adesso me l'ho portato da un'altra parte, ti apro il file di testo con le coordinate dei punti e anche questa è andata da un'altra parte, eccolo qui, nome del punto, coordinata X, coordinata Y, coordinata Z nel sistema di riferimento ETRF2000. Voglio portare dentro questo file, vedi che per ciascuno di questi punti io ho la coordinata, la terna di coordinate, scusa, e ciascuno di questi punti ha corrispondenza qui, ti ritrovi i punti, te li ritrovi esattamente in questa tabella, io ho rinominati i punti a mano a mano che li inserivo. Allora, quello che devi fare è a questo punto andare qui, allinea modello con vincoli 3D. Allinea modello con vincoli 3D, lo software ti dice, ok, io ho trovato questi vincoli, beh, grazie, gliele hai dati tu e quindi questi sono i vincoli che ha trovato. Lui però non conosce ancora le coordinate di questi punti, o meglio, le conosce, ma sono coordinate interne. Se tu, faccio un passo indietro, se tu gli dici, mostra le coordinate dei punti di controllo, lui ti fa vedere delle coordinate dei punti di controllo, ma sono coordinate che si è calcolato lui all'interno e si portano dietro gli errori legati alle camere che hai processato, che hanno una coordinata, una terna di coordinate che è legata al GPS di bordo, in questo caso del drone, ma ha una scarsa precisione, una scarsa attendibilità. Allinea modello con vincoli 3D, lui ha bisogno delle coordinate, quindi le coordinate gliele dai qua, importa vincoli da file, vai a selezionare a questo punto il file di testo che ti ha fatto vedere, gcp.txt, e lui automaticamente cosa fa? Popola questa tabella con le coordinate di questi punti, queste coordinate sono quelle che sono scritte nel file di testo, in nome, x, y, est, nord e elevazione, l'errore di riproiezione, e poi qui c'è una cosa molto importante che sono due colonne dove tu puoi scegliere, puoi mettere la spunta per ciascuno di questi punti su opzione vincolo, opzione controllo. Questa è una parte molto importante da non sottovalutare assolutamente. Allora che cosa succede? Facciamo finta di avere tutti i punti di vincolo. I punti di vincolo sono i punti che il software utilizza per vincolare il modello a questi punti e sistemare tutto il resto. Ora questi punti sono 2, 4, 6, 8, 9 punti. Questa nuvola di punti sarà formata da centinaia di migliaia di punti, ne utilizza 9 per sistemare tutti gli altri. In questo modo lui fa l'ottimizzazione dell'allineamento, quindi sulla base di queste coordinate corregge le distorsioni, orienta il modello, lo georeferenzia, lo scala e lo posiziona correttamente. I punti di controllo invece sono punti che il software utilizza per controllare la bontà dell'output, ossia quello che fa è prendere la coordinata del punto che è utilizzata, che è stata ricalcolata dal software e che ha lui all'interno, anche dopo aver inserito i punti di vincolo, la confronta con la coordinata che gli hai dato tu, che è questa, che è un dato che per lui è assoluto, non lo mette in dubbio, quello è un dato corretto, confronta questo dato con quello che ha calcolato lui, fa uno scarto e su ciascuno di questi punti ti dà un output in termini di scarti. Se hai più punti di controllo, ed è fondamentale avere più punti di controllo in un processo topografico, gli scarti vengono trattati con un'analisi statistica, quindi si fa un'analisi agli scarti quadratici medi e lui ti restituisce in output quello che è il valore dell'accuratezza del tuo output, della tua nuvola di punti, della tua nuvola di punti sparsa. Questo è un dato fondamentale, perché effettivamente è il dato che devi utilizzare quando vuoi dichiarare, quando dichiarerai che il tuo rilevo, il tuo output ha un'accuratezza di 3 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, quella che è, la si calcola sui punti di controllo. Tu potresti avere che ciascuno di questi punti è sia punto di controllo che punto di vincolo, cioè tutti questi punti vengono utilizzati per vincolare il modello e tutti questi punti vengono utilizzati per controllare il modello. Ora, puoi fare diverse prove, puoi fare varie analisi, puoi lavorare veramente sui dataset, anzi ti esorto a farlo perché è importante lavorare sui propri dati e cercare di capire la sensibilità del software e dei modelli che usi. Il mio approccio è un approccio topografico che tende a escludere una o l'altra. Per quanto mi riguarda, un punto di vincolo o è un punto di vincolo o è un punto di controllo. Cerco di evitare la commistione tra punto di vincolo e punto di controllo. In questo modo io definisco, scelgo alcuni di questi punti, che sono i punti che ho chiamato con la lettera E, come punti di vincolo. Quindi vengono utilizzati solo per vincolare il modello e non vengono utilizzati per fare nessun tipo di controllo. E poi i punti che sono indicati con la lettera A, a questi punti tolgo l'opzione di vincolo, cioè questi punti non vincolano in nessun modo il modello e questi punti vengono utilizzati soltanto per fare il controllo. Quindi il modello, questa fase di orientamento, ottimizzazione dell'orientamento, avviene soltanto per questi cinque punti. Soltanto. Poi dipende. Cinque punti è abbastanza un minimo, io non andrei sotto questo valore, infatti i risultati potrebbero non essere ottimali. Generalmente si va con dei numeri molto più alti, però giusto per farti capire il concetto. Questi quattro punti invece vengono utilizzati per il controllo. Anche questi quattro punti a mio avviso sono pochi, però di nuovo è per farti vedere, per farti capire il concetto e quello che c'è dietro a questo processo. Una volta che hai sistemato queste cose, che hai scelto quali sono i punti di vincolo e i punti di controllo, dipende anche da come sono distribuiti all'interno dell'area e da come li hai distribuiti tu quando hai fatto il rilievo, se l'hai fatto tu, devi definire il sistema di coordinate, il sistema di coordinate in è VGS84, UTM, zona 32N, il sistema di coordinate in-out è questo, queste coordinate sono nel sistema EPSG 6707 e TRF2000, poi puoi dare l'ok. Questa parte qui la lasciamo così, magari la approfondiamo in un prossimo video. Una volta che hai selezionato tutte queste cose, dai ok e lui inizia un calcolo. Alla fine del calcolo, che richiede un pochino di tempo, non è brevissimo, non è neanche lunghissimo, non è il calcolo della nuvola dei punti densa, il software ti dà in output una sorta di report su quello che è successo. Mi sarei aspettato dei valori migliori, ci deve essere stato qualche problema nell'attribuzione dei punti, dovrei verificare un attimo gli errori di riproiezione, ma questo video è soltanto per farti capire che cosa succede adesso, il software ti dà un output che ti dice ok, ho calcolato i punti, ho sistemato il modello, ho calcolato le coordinate dei punti che mi hai dato come punti di controllo, in realtà lui ha calcolato le coordinate di tutti i punti, ha preso quei punti di controllo e li ha confrontati con le coordinate che gli hai dato tu e fa un'analisi di statistica agli scarti quadratici medi. Scarti quadratici medi sono legati a ciascuno di questi punti, più punti sono, più l'analisi statistica è robusta, per cui non basta uno, due, tre, quattro punti, ne servirebbero davvero tanti, servirebbero di più, perché la statistica inizia a funzionare, la statistica funziona su grandi numeri, comunque lui ti dice ok, l'errore medio finale, quindi l'accuratezza finale di questo rilievo, potrebbe essere di 10 centimetri, mi sarei aspettato qualcosa di meglio, ti ripeto, c'è qualcosa che non mi quadra e che devo controllare e indagare all'interno degli errori di proiezione e delle coordinate dei punti. Per ciascun punto ti dice i residuali, ti dice che il punto A14 è un punto un po' sballato rispetto agli altri, infatti devo controllare questo e l'A11, questo punto ti dice ha un errore residuale di 20 centimetri, insomma il residuo sulla X e sulla Y è molto buono, sulla Z c'è qualcosa che non va, quindi c'è qualcosa che zoppica nella coordinata Z, A06 e A10 sono punti buoni che hanno un errore finale di 2-3 centimetri, risale l'errore per quanto riguarda il punto A11. L'errore medio finale, che è lo scarto quadratico medio di questi errori, è di 10 centimetri, è un errore medio, chiaramente è un errore medio, quindi questo vuol dire che se dai ok e chiudi, esci dalla finestra e ritorni nel modello. La finestra la puoi sempre riprendere, se vai qui, strumenti, punti di controllo, mostra informazioni sull'allineamento del modello e lui ti dà le informazioni su quello che è l'allineamento del modello e l'errore medio, quello che abbiamo appena visto, lo puoi salvare su disco o copiare negli appunti. Questo è quello che succede nell'allineamento delle immagini all'interno di Zephyr, è quello che succede nell'allineamento delle immagini all'interno di altri, tutti i software extractor from motion. Questo video era soltanto per farti capire come inserire le coordinate tramite file di testo e lanciare l'ottimizzazione dell'allineamento. Magari in un prossimo video possiamo entrare un pochino più nel dettaglio di questi parametri, vedere se si possono in qualche modo sistemare, aggiustare eventuali errori, come andare a riconoscere eventuali errori, se ci sono dei punti che scartano un po' più degli altri. Questo processo ti permette di avere un dato in output in termini di accuratezza, ma attenzione che l'accuratezza è un valore medio, visto che c'erano due punti che avevano un'accuratezza in restituzione, uno scarto abbastanza alto, 15-20 cm, altri che erano scarti più bassi, 3-4 cm, quindi vuol dire che quel valore che tu hai in output è un valore medio. Ci saranno punti dove magari lo scarto è più contenuto, altri dove lo scarto è più grande. Questo è importantissimo conoscerlo, perché se tu devi restituire in output un valore di accuratezza, devi specificare come è stato calcolato questo valore dell'accuratezza, non puoi dire che questo rilievo è restituito con 5 cm di accuratezza, perché poi magari ci sono punti che ne hanno 1-2 di centimetri, altri punti che ne hanno 20-30 e magari in quelle aree il modello è più debole, quindi devi essere sempre coerente e coesciente del fatto che quel valore di accuratezza si riferisce a una serie di punti, un certo numero di punti di controllo. Ed è proprio per questo motivo che i punti di controllo spesso sono un po' trascurati, ma sono una parte fondamentale per affidarsi, per dare robustezza e per dare affidabilità al dato. È su questi che si calcola poi l'accuratezza, è su questo che lavora la statistica e la statistica lavora su dei grandi numeri. Spero di essere stato utile con questo video su utilizzi Zephyr, ma penso che possa essere trasversale e utilizzabile in termini di principio da chi utilizza anche altri software Structure from Motion. Se è stato utile puoi condividerlo con qualcuno a cui pensi, possa giocare o fare comodo e io ti ricordo che se vuoi puoi sostenermi, puoi sostenere il progetto di 3Dmetrica, 3Dmetrica.it slash supporta per diventare un finanziatore oppure ti puoi iscrivere al canale Telegram telegram.me slash 3Dmetrica. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao, da Paolo Corradeghini Grazie a tutti. Grazie.